Quando ho chiesto la nostra squadra di design per creare un rotatore che può essere perfettamente integrato con le nostre soluzioni di esatto e Sesto Senso 2, ho detto che bisogna essere avanzato ma affidabile e bisogna avere un'incredibile risoluzione di 1 arc seconda per step! Wow! Benvenuti a ARCO, la rotazione di rotazione di arc seconda! ARCO è il rotatore di rotazione più alta e la sua seconda risoluzione permette anche di essere un rotatore di rotazione rotando il campo di vista mentre la camera è aperta, permette di registrare anche le stelle lunghe esposte di foto su monti di Altaxi senza un filo. ARCO è disponibile in configurazioni di 2 e 3, aiutando la migliore apertura necessaria per adattare la vostra fotografia. presentazione. Ha avuto un design molto lento con tutti i componenti bellissimi contenuti nel suo caso alluminio. ARCO non ha parti esterni o protudine esterni che possono interferire con la tua camera, altri accessori o anche il tuo telescopio. Come potete vedere, ARCO è designato per essere usato insieme con l'esatto Focuser o Sesto Senso 2 Focusing Motor. Si connessa con un cibo singolo corto, attaccato al porto ARCO sull'esatto o Sesto Senso 2 e non necessitati nessun cibo esterno USB o 12V. Grazie a tutti gli adattori disponibili, potete connessare ARCO 2 e 3 inci alle diverse versioni dei focusingi esatto. E dopo l'ARCO, sul canale della camera, potete usare l'adattore di camera con il stop ring, che già usate sull'esatto. Se usate questo Sesto Senso 2 con il tuo telescopio standard Focuser, puoi inserire l'ARCO con la piaccia standard NOS P, poi connessa la tua camera con uno dei molti adattori disponibili. ARCO viene con Play, l'autore di astrofotografia facile facile da usare e usare che ti permette di usare come rotator o usare la rotatora con il tuo Google o qualsiasi computer Windows, via un driver di ASCOM per usare nel vostro software di astrofotografia favorito o via Wi-Fi, da un smartphone o tablet, grazie alla handpad virtuale. Questo è ARCO, il nostro più avanzato, compagno e affidabile, risoluzione di risoluzione ARC 2 e usare la rotatora. Grazie.